Da Mantua per giocare a Carta Bianca. Carta Bianca. E chi è? Nicola Sodano questa sera in veste di presidente dell'Ios Club Mantua Ducale. Grazie mille per la Carta Bianca, se questa è tale, vediamo come mai. Questa sera c'è una serata importante, una serata dedicata a Giulio Romano, quindi avremo due ospiti di eccezione, Paolo Bertelli e Daniela Sogliani, che ci parleranno del ritorno di Giulio Romano a Mantua nel 2019 dopo la grande mostra del 1989. È bello sapere che in comune tra Giulio Romano e Nicola Sodano non c'è solo la rima ma anche una grande professionalità. Dettaglio.